una specie di piccola storia dei fatti che c'è la riflessione comunque abbiamo visto qualcosa di unico complimenti è una cosa una cosa mi ha fatto molto piacere era un po che volevo venire ho detto ma oggi la giornata eccetera facciamo un giretto veramente bene grazie grazie veramente della sua disponibilità